5 minuti clic, 3 minuti, clic clic clic, partiamo di lì Partiamo di lì, facciamo 3 punti, 7-7-7 Andiamo la 7-7-6 E' un po' qua Grazie Ancora uno Il prossimo è metà destra, metà sinistra, laterale Metà destra, metà sinistra, laterale Il prossimo è scivolamento all'indietro All'indietro, scivolamento all'indietro Scivolamento avanti Tutto dietro, ritorno Tutto dietro, ritorno Arrivo al centro, metà sinistra All'altra parte Sempre morbidi, non è ancora veloce Sempre morbidi Arrivo su uno, vado avanti, vado indietro No, avanti, vado indietro, ritorno Iniziamo con le gambe Metà apro, metà chiudo Ultimo Ultimo All'indietro Lancio alto Via 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 Ritorno indietro Ti spiro all'inizio e mi lascio un po' andare Ti spiro all'inizio e mi lascio un po' andare Ecco le gambe Ecco le gambe Passiamo tre di gambe Gambo fuori, bene a te Quarta Calciata dietro Mi lascio andare Il problema è che ho più te o più lui Mi serve una cosa di uno Il secondo che sto prendendo Il calciato A incrociare A incrociare Quattro battute di schifo Quattro di calciata Mi lascio andare Facciamo due Vieni avanti Giri intorno a Birellino 10 Poi l'altro a Birellino Allora Fammi non più Via 10 Via Il secondo Seconda 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 Non veppare l'osso Mettiamome fare i piedi Vai per i pietri Di là Andiamo Alla Quattro vio Qui Grazie. Arrivo veloce, treno, riparto veloce, treno. Vado indietro di passo, il prossimo è l'ultimo. Parto, cambio di direzione, cambio di direzione doppio, vado in campo, cambio di direzione doppio. Grazie. 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 Grazie.